buongiorno a tutti oggi è domenica 24 maggio e parliamo di analisi ciclica evoluta non normale su standard and poor 500 la centratura precedente era totalmente corretta e ancora più facile fare le scansioni temporali su un indice che non sul mercato che è molto più regolare degli altri ha molte meno raccordi rispetto agli altri che oltretutto si specchiano tra inverso e indice stesso e quindi torniamo un attimo a fare alcuni ragionamenti allora prima di tutto questo è il primo mensile ve lo presento è il primo t più 2 successivamente probabilmente sta partendo il secondo t più 2 perché abbiamo già un sottociclo di due gradi inferiori rialzista che lo lancia quindi non è soltanto un nuovo t più 1 ci metto già un nuovo t più eventualmente 2 anche perché diciamo che siamo già arrivati a 43 giorni e quindi è estremamente anzi non è possibile una centratura diversa facciamola più semplice qui possiamo togliere questo e voilà qui abbiamo la condizione per la chiusura del mensile sì verificata per cui avendo fatto già 3 4 5 6 giorni è un minimo il settimo su questo minimo potrebbe essersi chiuso il primo t settimanale di questo t più 1 t più 2 qui ha senso già metterci un bel punto di domanda e vedere molto semplicemente se da lunedì in avanti andremo in violazione a rialzo per alto di un hammer e quindi partirà effettivamente con un minimo di due giorni di salita il secondo t del t più 1 penso che queste cose siano estremamente chiare per chi mastica di ciclica se non e se vi interessa contattatemi con un messaggio privato e vi darò del materiale con cui partire per comprendere che cosa sono tutti questi t t meno 1 t più 2 e tutto il resto tutto gratuito ovviamente da questo per i giorni a venire il punto di controllo giustamente è il massimo a 2961 in caso di violazione tendenzialmente andremo a fare massimi superiori ai 2.980 che abbiamo già toccato e questo se andremo a violare anzi avendo già violato il 2.972 e anche questo livello a 2.890 ci dice tante cose ci dice che questo secondo t più inverso si è vincolato a ribasso e quindi proverà a portarci più in alto possibile per tutta la sua durata in alto di indice siamo arrivati a 25 barre soltanto di durata perlomeno non abbiamo fatto un massimo superiore a questi per cui mi aspetto un aggiornamento dei massimi vi faccio notare peraltro che l'S&P 500 è una forza incredibile rispetto ad Axe e Fuzzimib è già arrivato oltre il 61% di ritracciamento dai massimi e sta spingendo per arrivare come target potenziale da verificare piano piano nel tempo ai 3.114 e quindi è dopo bitcoin l'asset che sta ripartendo più rapidamente rispetto a tutti gli altri mercati ed è quello che sta trascinando lì in su il DAX sappiamo quanto 2 ha un t più 2 inverso? Sì in media 32 giorni al massimo 43 per cui sappiamo per quanto tempo anche abbiamo la possibilità di andare a provare a raggiungere questo massimo se andiamo a prendere poi i sottocicli se qui dopo 10 giorni di t più 2 inverso scusate dopo il massimo fatto a eccolo qua dopo questo massimo se da questa candela è partito un nuovo t settimanale non appena andremo appunto a violare il massimo continueremo a sparare verso l'alto per tutta la durata residua del t settimanale stesso per cui l'inverso vincolandosi ulteriormente a ribasso ci porterà in alto di indice verso i target che dicevamo per cui in questo momento privilegiate sempre operazioni long alle short e quando vi ritrovate su dei minimi valutate effettivamente se ha senso prendere una posizione appunto long da quello che avete visto in base alla tempistica ciclica lo dico soprattutto per chi un tempo rifiutava la ciclica diceva anche nelle chat no ma non serve a niente le analisi non sono valide i trade sono fasulli e tutto il resto e che adesso ha imparato probabilmente qualche cosa e sta utilizzando la ciclica base e una parte di ciclica evoluta che ho insegnato io qua su trading view se l'analisi vi è piaciuta pacca sulla spalla e like viceversa non mi dovete assolutamente niente anche oggi sarà una splendida giornata comunque arrivederci